Pulizia straordinaria questa mattina del manto stradale all'uscita della 16 bis Barletta Sud. A lavoro i mezzi e gli operatori della Barsa, impegnati in un'opera di raccolta dei rifiuti abbandonati su entrambi i lati della carreggiata. Spazzatrici in funzione per liberare il tratto stradale dai numerosi resti di plastica e mondizia di varia natura adagiati sul ciglio della strada, in un'area che comprende tutta la provincia della Bat, tristemente nota per essere ricorrentemente centro di sversamento e raccolta illecita di spazzatura. Per permettere l'operazione in totale sicurezza è stato necessario l'intervento della polizia locale nella gestione del traffico, che ha subito inevitabilmente qualche rallentamento in un orario solitamente molto battuto dagli automobilisti, sia in uscita e in entrata dalla città. Non sono mancate infatti polemiche tra gli automobilisti e gli operatori della Barsa. Una pulizia stradale che avviene in giorni di grande polemica sull'aumento della Tari, il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Alcuni cittadini infatti lamentano un raddoppio delle bollette. A questi ha risposto il sindaco, piccato, respingendo le accuse al mittente e parlando di fake news, invitando qualunque cittadino abbia lamentato questo aumento a raggiungerlo in comune, tari alla mano, dimostrando quanto affermato. Il sindaco Cannito ha infatti parlato di un aumento di solo il 10%, come previsto per legge.